Esperienza di misericordia si chiama, fatta sul campo, messa a disposizione degli altri, dei più poveri. Suor Cristina è una missionaria della congregazione religiosa delle Madri del Buon Consiglio, a Canosa di Puglia, la sua formazione prima di rientrare in Uganda. Spero che in futuro possa aiutare la congregazione, il paese, anche la chiesa intera, per aiutare i poveri che hanno più bisogno dell'aiuto nel mondo. Ic Sum, il nome del progetto, promosso dalla Fondazione Spazio Spadoni, la collaborazione con le Misericordie d'Italia. La Suori in questo percorso di formazione impara a produrre quelli che sono i generi di prima necessità, tra cui il pane, per poi andare lì in terra madre, quindi in Uganda, e aprire un'impresa sociale, una piccola misericordia dove produrranno quello che è il genere di prima necessità, pane, taralli, pasta, ma anche conserve per poter aiutare quella che è la popolazione del posto che non riesce a sostenersi anche economicamente. Suor Cristin nel panificio, ormai una di famiglia, ma anche a scuola. Qui siamo all'Istituto Ainaudi. La scuola ha delle competenze molto particolari, quelli della ristorazione, quella della conservazione dei cibi, che noi trasmetteremo a Suor Cristin, ma in questo caso è Suor Cristin che farà da testimone ai ragazzi nel servizio e nel donarsi come missionaria. E quindi siamo noi, nel suo messaggio, che ne riceviamo una profonda educazione.